Presidente Cossolo dal 13 al 15 maggio torna a Bologna Cosmopharma Exhibition perché è importante non mancare? Intanto è importante non mancare perché è un'ottima opportunità per incontrare i colleghi per verificare e confrontarsi con loro su tutte le innovazioni che l'anno 2021 che mi permetto di dire è stato un anno molto importante per la farmacia italiana, ha portato nella farmacia, ci saranno ovviamente dal punto di vista fieristico anche delle proposte per sviluppare ulteriormente quello che è stato il grande successo del 2021, cioè la farmacia dei servizi intesa come test, antigenici, come l'opportunità di vaccinare, ma soprattutto sarà un momento di incontro, di confronto con le istituzioni e anche con i colleghi e poi perché dopo tanto tempo è anche bello incontrarsi di persona, dopo tanto tempo in cui ci si è potuto incontrare anche solo a distanza, quindi è importante partecipare, è sempre importante, ma secondo me questa Cosmopharma è particolarmente importante partecipare.